Dimenticato il freddo, con le temperature più accettabili e alcune date classiche, i comuni, soprattutto quelli montani, tra natura, beni culturali e denogastronomia, ritornano ad essere al centro dell'attenzione. È il caso di Galatima Mertino che punta molto su turisti e visitatori, soprattutto in relazione alle cascate del Catafurco e a tante altre attrazioni che il paese offre. Sono in corso i lavori alla cascata del Catafurco, quindi mi sento di annunciare che per questa stagione primaverile e estiva, nello splendido sito delle cascate, sarà di nuovo fruibile a visitatori e turisti, così come anche il nostro centro sportivo di località Rafa, sapete c'è la piscina comunale, data in gestione a un'associazione, già si sono iniziati i lavori di ammodernamento. Rifaremo il look anche alla piscina comunale, al campetto di padel e sono in corso anche i lavori al palazzetto dello sport, sorgerà un nuovo palazzetto dello sport e ci stiamo impegnando anche per il campetto di calcetto. Galatima Mertino ad oggi è un cantiere a cielo aperto e presto inaugureremo anche il centro comunale di raccolta in località Contura. Sono a buon punto i lavori al palazzo De Spuges, anzi abbiamo presentato anche il progetto per un altro stralcio. Anche la piazza, speriamo, rifacciamo il look anche alla nostra centralissima piazza San Giacomo. In compartecipazione con gli altri comuni ci sono i bandi sulla rigenerazione urbana, stiamo pensando anche alla frazione San Basilio. Stanno proseguendo i lavori alla chiesa del Rosario. Metteremo anche i fari, l'illuminazione al nostro storico campo sportivo, il Ducezio, che è veramente un gioellino al centro del paese. Grazie anche all'inaugurazione del Ducezio si è ricreato un entusiasmo importante nel paese. La domenica, il fine settimana, Galatima Mertino è veramente un paese vivo, popolato di giovani, di sportivi, che poi possono anche godere delle nostre bellezze artistiche, architettoniche e perché no della nostra cucina. Perché come sapete a livello di enogastronomia Galati non ha niente da invidiare a nessuno.